Salve, oggi voglio condividere questo piccolo ritrovamento, un piccolo oggetto, tutti lo riconoscete, è stato un nido, è caduto con l'autunno e io ieri l'ho raccolto e mi ha colpito il materiale con cui è fatto. La cosa mi ha un po' anche rattristato, devo dire. Abbiamo delle erbe, dei fili di erba, ma poi sul fondo la prima parte, la parte iniziale del nido è realizzata in fili di plastica. Inizialmente credevo fossero capelli, questi fili molto lunghi di nylon sono la prova di una contaminazione ambientale che ci preoccupa. Diversamente dai fili d'erba che sono biodegradabili, questi continueranno a frammentarsi e a disperdersi nell'ambiente. In futuro qualcuno inghiotterà questi frammenti e noi sappiamo che questo è un male. È un male quando la plastica raggiunge il mare ed è un male quando la plastica è nei nostri boschi, nei nostri campi. Dunque questo nido è un nido dei nostri tempi, un nido in cui questa contaminazione ambientale è di tutta evidenza, in modo subdolo o, come in questo caso, in modo più eclatante. Dunque questo nido è un esempio, se vogliamo, della nostra non civiltà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.